Volevo chiedervi un applauso per un ospite d'onore che è qui in prima fila, l'attore americano conosciutissimo per tantissimi film, Gordon Mitchell. Facciamo un applauso a Gordon Mitchell, che è ospite d'onore di questa manifestazione. Tutti quanti sicuramente l'avete visto in tantissimi film, ospite d'onore qui questa sera. Continuiamo, siamo nella parte finale di questa parentesi dedicata allo spettacolo cantato. E' il momento di parlare di qualcosa che sa tanto di musica italiana, ma di musica, ecco, invitiamo, sì. Allora, Gordon Mitchell, Mr. Gordon Mitchell, Camilla. Buonasera. Come va? Lei è piuttosto alto. Bellissimo. No, è solo qui perché mio cugino Gino canta oggi. Benissimo, quindi tra un attimo lo sentirete. Sì. Benissimo, ci fa molto piacere. Lei oggi pomeriggio è stato già qui sul palcoscenico e ha parlato con delle persone che erano presenti. Ancora qualcosa rispetto a questa manifestazione, per quello che lei ha avuto modo di vedere? Un pensiero, come attore, lei come ha visto questi giorni? Ancora non ho capito. Allora, lei ha visto tantissimi parrucchieri. Questo tipo di manifestazione le piace? No, peccato. Molto ne ho detto qui alle 1, alle 2. Tante belle invenzioni con tutte belle parrucchieri qui in Italia. Invece io sono in California, ancora io vado in Cina, vado in Russia, tutto il resto del mondo, perché in Italia è il fatto più bello del mondo. Un attimo, anche per Gordon Mitchell, un pensiero da parte dell'organizzazione. Avete sentito dalla voce di Gordon Mitchell un nome? Prima stavo dicendo, abbiamo ascoltato la voce di Battipaglia, un giovane ragazzino. Poi anche in Campania si produce dell'ottima musica italiana, una musica italiana che sa anche tanto di rock. Un giovane campano che ha voluto prima di tutto essere qui con noi quest'oggi e dedicare proprio all'ANAM e agli acconciatori campani. Per cui anche a tutti gli acconciatori italiani un inno e per lui un grossissimo applauso. Gino. Grazie. 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 Voglio ringrazio. Voglio ringraziare Pietro Conaduno. Grazie. Grazie. A nome di tutta l'Accademia Nazionale. Grazie. Il tuo inno, la tua musica, le tue parole. Complimenti e grazie a nome di tutta l'Associazione. Grazie. 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 Questo inno è stato solamente per l'inaugurazione di questo secondo trofeo nazionale Sandro Andretta, che si è tenuto a battipaglia. E' stato dedicato questo inno della Regione Campania per tutta l'ANAM nazionale. Chiamiamo ancora una volta qui Gordon Mitchell. Gordon Mitchell e Gino in questo abbraccio. Allora, il Presidente nazionale dell'ANAM. Allora, Presidente nazionale dell'ANAM per premiare il cantante Gino. E' anche giusto, visto che poi l'inno è dedicato agli acconciatori campani, ma all'intero ANAM nazionale. Con molto piacere. Grazie. 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 Grazie.